Benvenuti nella nostra scuola. La scuola secondaria Cattaneo è ubicata in Vede Pile nella zona di Melara ed ospita le tre classi della sezione C. Al piano terra si trovano la sala insegnanti, l'aula di musica e l'aula di tecnologia. Le altre aule si trovano al secondo piano dell'edificio e comprendono laboratori di artistica e aule laboratoriali di matematica, lettere e lingue. Tutte le aule sono attrezzate per l'utilizzo del proiettore, una è dotata di una limma. Da alcuni anni la scuola secondaria di Melara ha deciso di innovare i propri spazi per l'apprendimento. Con il progetto scuole in evoluzione, aule laboratoriali, il docente non ha più un ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre materie, ma può adeguarla ad una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo a redi, materiali, libri e strumentazioni e al docente che viene assegnato all'aula e non più alla classe. Il docente resta in aula e i ragazzi ruotano tra l'una una e l'altra a seconda della disciplina.